Comprato il computer Come serve? Che cosa fa? Guarda i video tu quando dice stronzata Guarda più grosso Lo schermo è più grosso La faccia i cazzi Chissà Chissà stai quando andavano Lucano Ancora 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 E' lo slogan Non per Diciamo Di cattiveria Però è lo slogan che ci sta dai Voglio bene Lucano Un saluto Un saluto da Tommy Top Con la mano Lucano Ciao Nel niente A Tarak 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 Entro la casa, entro la casa Arrivo, arrivo, arrivo. Più di uno Andiamo da Ermex Andiamo da Ermex Andiamo da Ermex Ragazzo, uno è... One shot Quello cazzo sta Stiamo lì Ah, 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 così zbaglio qua, ah Con chi ce l'hai? Abba Una terra Metti la mina, metti la mina per terra Quaranta e quattro secondi Eh dai! Vieni al giocatore Minchia, il giocatore Ma voi te ne ha l'ho Eh, l'ho Chi ti scuola? Come? 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 L'ho preso due volte in destra, non mi ha dato la... Lei danno Lei danno Lindo Un po' Un po' Signale L'ho preso Bi mi serve una macchina buona però sei su qua eh eh come l'ho aperto abbiate fede abbiate fede ok buona scuola eh il problema è che mi hai ricercato eh sono l'elicolo qua alla fine della pista e prendi la cazza la cavata bravo l'ho appoggiato piano 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 è un pilota perché devo fare il giro sei stato delicatissimo vado adesso che cazzo le sono fatti su te un compagno di squadra è stato designato come bersaglio tappo tappo profisce la benzina ma io me ne andrei sulla torre intanto potrebbe essere l'idea ma quello benissimo qua calma oh no no sto scappiando qua mi scoppia però ok perché non lo posso appoggiare ma schifo adesso come lo appoggi te l'avevo detto io muori piano piano un'eternità dopo quanto manca? 16 secondi è proprio facile puoi dare il suo gas bravo guarda che prendi un'elicottero sei tre quattro tre ah 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 oh ti sono fatto a parlare dai devo sapere cercato di finire di nascere lo butto? cosa? l'ho buttato già quell'icottero vabbè però ti vede tutta la lobby quello è il problema del fuori cerco Taino medio, ottimo facciamo in giro a questa casa c'ho una minchia buavvi nemico e ci voleva giustamente eh, questa ha visto buono e ho pure la gente qua in questa casa qua in albergo questo è un bello loadout e loadout dovrebbe scendere adesso no c'è sceso da dove ora c'è sceso ecco io manco ho visto a me non riesce proprio da dietro, da dietro raga guarda Tommy come scappa Tommy, scappa Tommy faccio uscire quel cavo grappolo, grappolo si, si guardiamo qua no, non mi devo salire una terra ragazzi una terra eh una terra eh vitro da muretto chi ci arriva là eccolo uno a corta tre stelle mamma mi è craccatissimo sinistra anche sinistra anche a sinistra non c'è avanziamo raga avanziamo avanziamo bravo 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 mi piace questa cosa raga qualcuno può prendere il un va qui qua alla shop prendo io se c'è tiro una smocco come fai aspetta 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 non c'è non c'è non c'è qui c'è un nemico dove 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 è f***ato ah ok raga prendiamo questo testo sti po andiamo andiamo io trovo un'armada di forza 85 se vi interessa dove dove Ermex te la lascio questo è buonissimo ma guardate che sono polverizzati dove su stanno di verso sinistra se volete c'è un drone provo a tirarlo per vedere dove cazzo stanno eh tiro l'altro qua non sale è bloccato senza niente no sto bloccato anch'io ma dai il drone ti blocca questo gioco di merda no rompeci lascia le volte rompe il drone o ma sparare non lo possiamo sparare ma che? sparare che non ci fa danno vedete la prossima stop non esiste la prossima shop oggi è stato un altro shop ma pure ieri mi ha fatto sta cosa incredibile ho lasciato soldi e armi in casa vengo a prendere io le armi sono buone le armi sono le mie temizio da qua la cato terra ok atto pesa un altro la pesca è dove? non lo so più la sotto di voi sta oh eccolo terra c'è manca più la shop che prega per il cura è arrivato qua ok ti mani è andato eh eh vabbiamo dei blocchi eh ci sento davanti è lo più alto davanti a noi ho visto lo visto ho visto è l'accato è la cato non lo so è la cata lì è la cata qua sopra ho visto ho visto Granata partita! Granata stordente partita! Stordito! Tutto c'è una bomba domani! E' un'altra cosa! Macchina, macchina! Il benzinaio! Fai a scuola, coprimi! Eh, coprimo, coprimo! Putta questa mina per terra, per te la puoi! Per la macchina! Ma quello, c'è morto quello là, vai giù! No, no! Si! E' morto! No, no! Per la parola! Ah, è fuori! La madonna! Ancora la macchina! Qua c'è una macchina! Per scappare! Ok, finita la safe, che scappa! Asperta! Stai accaduto qua! Sì, vabbè! Oh, c'è stato! Oh, qua che è? Con quattro! Va bene! Vai, ragazzi! T'abbè una mano a se quale qua! Un'altra a terra! Oh qua qua! C'è stato un bombardamento, raga! Che ce l'ho! Un'altra a terra! Uno confermato! potrei so tre quelli l'ho morto non c'è più colpa anche la macchina la potete utilizzare c'è anche la benzina quello è importante perché in campo anche le montagne tutti la stanno questi tre quadro e cazzo sono andata allora prendiamo la macchina c'è le moto sulla strada saremo sopra la cazzo vedi piace per favore ma spazio sono qua questi a guarda stanno a truffarla guarda morto morto e ce ne 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 c'è un altro la schussata lascio stare pre tutta la macchina tutta la gas la guazze squad non è giù qua una a sinistra la condizione c'è chi non 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 c'è terra terra c'è chi non c'è chi non c'è il cascio usate questa macchina peste chiali stanno in campo aperto insieme andate insieme e tu? e arriva a niente qua qua va bene andiamo noi non muoci quando insieme partì 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 10 persone sei team vuol dire che siete voi in tre tutti da uno sono se ne uno da due questo sei arrestato sicuro bravo porto porto uno guarda tomatuto in due finestrini c'è la torre esso è uno stronzo conferma conferma guardate se sparano vai usate strada macchina ragazzi calma 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 fatto fatto 3 team e 6 persone ecco la ecco la ecco la vai 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 traccato fatto non c'è l'ultimo pingalo no no farà che cazzo ne frega di reanimare aiutalo aiutalo fatto aiutalo dai cazzo questi figati con la pace dai ragazzi e vado 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 il palismano toppa e io credo che ne io pigiare la partita e il palismano toppa voglio quell'arma che mi ha dato airmex per la vincita scontata eh quella è la mia eh ho provato a dare qua lei vado a trovare che sono da qua eh è buono è buona e vamos ok non 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 non